Scoprire e riscoprire un gusto antico con degustazione, cene a tema e musica. È un weekend all'insegna dello zafferano del gusto, quello del 24 e 25 ottobre prossimi, con iniziative che oltre ad animare il borgo di San Pia delle Camere, coinvolgerà ristoratori locali e chef stellati. Diciamo che quest'anno la novità è passata da una festa a un principio di evento rispetto all'anno scorso, quindi abbiamo anche altri chef stellati che prepareranno, a differenza dell'anno scorso, dei piatti loro che praticamente valorizzeranno loro stessi alcune violenze a base di zafferano. Quindi diciamo una giornata che è quella del 25 dedicata proprio a tutta l'attenzione data sullo zafferano e l'identità che ogni chef è in grado di dargli. Quindi sicuramente molte attenzioni ci saranno anche dovute al fatto di come si può valorizzare.